A forte velocità sul corso di Chiaravalle Centrale, multa per 10 giovani. Proseguono serrati i servizi di controllo del territorio disposti dal comando Compagnia Carabinieri di Soverato, con un notevole dispiegamento di pattuglie che hanno svolto un'incessante attività preventiva e repressiva. Da Copanello a Guardavalle, passando per i comuni delle Preserre Catanzaresi, i carabinieri hanno effettuato numerosi controlli, identificando complessivamente oltre 140 persone e più di 90 mezzi. A Chiaravalle Centrale, diverse segnalazioni da parte dei cittadini sono pervenute ai carabinieri per autovetture e ciclomotori che scorazzano in tarda serata e durante la notte nel centralissimo corso Staglianò. I controlli intensificati anche per rimediare questa situazione ed identificare i responsabili hanno permesso ai carabinieri solo nell'ultima settimana di sanzionare oltre 10 giovani residenti anche in altri comuni della zona. Più di 30 nell'ultimo mese, tutti sorpresi proprio mentre percorrevano in auto con motocicli o scooter, corso Staglianò a forte velocità, compiendo manovre spericolate, procurando un serio pericolo per la sicurezza degli utenti della strada e dei residenti. Alcuni ciclomotori non avevano gli specchietti retrovisori, in un caso anche senza targa. Ai restanti conducenti sono state contestate violazioni dal codice della strada per mancata copertura assicurativa, mancato uso del casco e l'utilizzo del cellulare alla guida.